ciao ciao amici sono sempre carletto e qui dalla mia tana delle recensioni rimaniamo quest'oggi nella spettacolarità lui è c3p o da star wars il mitico robottino guardate qua questa qua è una versione shogokin prodotta da bandai tra mesci nation completamente indie cast in metallo opera eccezionale che non può mancare a un collezionista di shogokin in assoluto perché forse insieme a r2 di 2 e tra i più belli solo chi non vuol dire soltanto robotoni perché ha fatto anche il doraemon l'ultrame tante cose escono in linea shogokin che sono parti di e cast quasi completamente di metallo questo è un gioiello rimaniamo per la spettacolarità e adesso andiamo a boxare perché adesso facevo il danno lo tengo così per farvi vedere la bellezza di questo c3p o ragazzi è qualcosa di unico questa librettino di istruzioni andiamolo a boxare prima che faccio il danno non butto gioco al cuore se rovino il mio c3p o c3p o bellissimo ragazzi andiamolo a unboxare vi faccio vedere che gioiello di casa bandai ci hanno fatto qua amici allora partiamo subito nel vedere quest altro capolavoro di bandai da star wars c3p o in versione die cast shogokin ragazzi gioiello gioiello anche questo qua gioiello veramente ragazzi qualcosa di unico allora come possiamo vedere a tutte le parti indie cast pitturate poi riverniciato e dorato veramente massiccio questo anche ho visto il peso ragazzi per farvi capire di cosa stiamo parlando ma vi fanno vedere che si può aprire la testa andare a inserire la batteria per accendere gli occhi cosa che faremo anche questa qua ci fa vedere come andarlo a mettere sulla basetta cosa che non faremo perché le basette le odio comunque qua mi fa vedere la basetta completo da formata da due parti più l'asta per legarlo allora vediamo 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 partiamo subito dalla cosa che mi frega meno ragazzi rispetto non adoro le basette la basetta è come quella di r2 di due uguale solo che c'è scritto c3 pio ed è la sua basetta classica con anche la parte questa acqua bianca c'è sempre la solito gancetto per aprire le parti fare le cose remote control che è la calamita che si attacca al petto ecco qua è l'altro pezzettino che questo lo tiene tra le dita però qua la cosa fondamentale vedere proprio l'ador partire subito allora prima vi faccio vedere una cosa mostruosa come r2 di due anche c3 pio e mostruosamente pesante allora abbiamo all'interno quattro mani che ve le faccio vedere sono veramente bellissime guardate ci sono quattro mani c'è questa qua sinistra e destra praticamente parzialmente chiusa e poi ce ne sono due aperte che adesso vi faccio vedere completamente aperte vedete una parzialmente chiusa e due parzialmente due parzialmente chiuse due parzialmente aperte scusate più le due sulla doll quindi praticamente abbiamo in totale 246 mani adesso passiamo a vedere proprio lui che è un'opera d'arte mi è uscito fuori un pistoncino che lo vado a rimettere perché questa quella rottura di scatole che ha dei pistoncini vedete ragazzi che a volte saltano via dove dobbiamo andare a rimettere adesso lo faccio e mamma mia quanto è bello mamma mia quanto è bello ragazzi vediamo quanto pesa prima di tutto perché questi sono massicci ma massicci ma massicci ma massicci diamo qua o un chilo ragazzi guardate qua un collezionista bandai di shogo kim non può non avere r2 d2 c3 più non può non averli ragazzi sono due gioielli guardate bellissimi allora leviamo la bilancia tenta non farlo cadere via passiamo ador dopo gli accenderemo ragazzi a sto male quanto è bello sto male quanto è bello dopo gli accenderemo anche gli occhi guardate quella cosa che vi dicevo allora guardate la parte dei pistoncini vedete si muovono in base a come muoviamo il braccio guardate qua qualcosa veramente di eccezionale guardate le finiture cioè guardate come è curato in tutto proprio guardate qua curati in tutto allora partiamo dalla testa guardate qua questa si apre si vanno accendere gli occhi guardate come hanno riprodotto bene anche le grate con la parte interna degli occhi è qualcosa di incredibile guardate parte del collo del petto c'è sto male ragazzi sto male a tanto che è bello guardate anche qua la parte di tutta la cavetteria all'interno su tutta la doll guardate qua che va anche dietro fino a vedere però prima la parte davanti guardate qua guardate qua che cosa hanno fatto è una cosa eccezionale eccezionale qualcosa di inconcepibile ragazzi qualcosa qualcosa di bellissimo vediamo anche la parte guardate qua vediamo se riesco a fare guardate tutti gli ingranaggi guardate i pistoni guardate qua vedete pistoni che si muovono guardate qua è qualcosa di non ho parole di questi due questi qua sono i shogo king più belli in assoluto mai fatti c'è superano di gran lunga secondo me anche ragazzi robot ma anche un dx poi questo è queste sono cose personali queste pesano un fottio tutte die casta acciaio guardate lavorati perfettamente ma guardate qua guardate la lavorazione di queste doll che queste qua sono qualcosa di incredibile sono qualcosa veramente di incredibile penso che si capisca quanto mi piacciono queste due qua guardate qua in tutto dettagliata in tutto in tutto dettagliata veramente in tutto un gioiellino dai vediamola girare comunque capolavoro assoluto di casa bandai questo shogo king capolavoro assoluto ragazzi da avere per forza questo ragazzi ho tentato di metterlo nella sua posa iconica vediamo più o meno ci siamo guardate che bello che non è guardate che bello che non è non è c3 p8 o bacio è bellissimo ragazzi è qualcosa veramente questo qua a parer mio è uno degli shogo king più belli fatti da casa bandai abbiamo visto un chilo di peso come r2 d2 bellissimo guardate curato in tutti i particolari guardate la colorazione tutto metallo di e cast guardate gli occhi guarda adesso quando poi gira ancora di qua vi faccio vedere anche gli occhi guardate i pistoncini sulle braccia la lavorazioni di tutti i dettagli sul corpo guardate tutti i dettagli curati anche le viti qua guardate la vite qua la vite qua la vite qua c'è la cavetteria che esce dall'interno è qualcosa veramente ragazzi di unico di unico questo c3 p o è qualcosa di unico ovviamente tutti gli amanti di star wars non possono non avere questo pezzo ma anche i collezionisti di shogo king secondo me perché qua è veramente uno shogo king di altissimi livelli prodotto da bandai so adesso neanche più l'anno perché adesso è passato un po ragazzi è perché inizia ad essere un po datato questo pezzo qua non mi ricordo più l'anno non mi ricordo più l'anno però inizia ad essere datato ma è un capolavoro senza tempo vediamo degli occhi se si vedono illuminati spengo un attimo la luce guardate anche qua come r2 d2 l'illuminazione degli occhi è bella forte provate veramente bella la pedana chiede pietà perché questi due sono due colossi da un chilo cada uno è veramente un gioiellino ma guardate tutti i dettagli delle viti delle cose più veramente anche le parti qua i disegni cioè tutto veramente dettagliato in una maniera mostruosa veramente dettagliato e in una maniera mostruosa complimenti a bandai che si è strassuperata strassuperata questo qua è veramente ragazzi un gioiello veramente eccezionale dai penso che l'abbiamo visto più che bene vi volevo far vedere solo il suo sguardo così vediamo se mette a fuoco devo tirarlo un po più indietro concludiamo andiamo a concludere però vi faccio vedere lui che vi guarda completamente a buio vediamo se riesco sapete che io mi voglio divertire spegniamo qua la pedana lui riguarda andiamo a concludere mentre vi guarda completamente a buio proviamo a spegnere vi sentite osservati mi stavo guardando mi stavo guardando ragazzi possiamo concludere nel dire che questo C3PO è un capolavoro assoluto veramente bellissimo mi piace un sacco non si poteva chiedere di più a bandai ricordo che della linea shogokin è veramente un gioiellino porco cane guardate come è saltato fuori il pistogine bisogna stare attenti 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 perché qua è un attimo che questo poi si rincastra vedete mette così tac e arriva dentro comunque state attenti perché anche se tu tendi a cast sono sempre cose un po delicate le dobbiamo sempre tenere con una cura maniacale lui è stupendo lui è spettacolo puro mica lui è esaltazione anche solo nel fargli la recensione c3PO è veramente qualcosa di unico c3PO di diamo anche te pollice alzato mi raccomando like al video se vi è piaciuta questa recensione che fate la campanellina così vedete tutto quello che vi è scappato e poi magari lo recuperate e soprattutto iscrivetevi al mio canale ragazzi iscrivetevi e ci divertiamo ciao ciao alla prossima recensione un saluto da c3PO ciao ciao